E' Francesco Cannizzaro, il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Prende il posto del dimissionario Giuseppe Mangialavori, che qualche giorno fa aveva annunciato le sue dimissioni a causa del suo impegno considerato troppo gravoso di presidente della Commissione Bilancia Montecitorio. La nomina è arrivata proprio questa mattina e l'annuncio ufficiale è stato dato attraverso i social con un comunicato sulla piattaforma X dal profilo ufficiale di Forza Italia. Il segretario nazionale Antonio Tajani ha nominato l'onorevole Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria. Al nuovo responsabile degli azzurri calabresi, migliori auguri di buon lavoro da tutto il movimento, si legge. Immediati gli auguri anche da tutto il mondo politico regionale, con il governatore Roberto Chiuto in primis, ma anche il consigliere Michele Comito, capogruppo del partito in consiglio regionale, e lo stesso Mangialavori. Conosco bene la complessità del ruolo e sono convinto che Francesco abbia tutte le qualità umane e politiche per interpretarlo al meglio, afferma ormai l'ex coordinatore regionale. Grazie a tutti.